Ciao, sono Alessandra Salimbene. Da oltre 20 anni opero nel settore dell'ottica, occupandomi di consulenza per il retail e per l'industria nell'ambito del marketing e della comunicazione dei medi digitali. Spesso molti imprenditori nel campo dell'ottica, appunto ottici che possiedono negozi o catene, mi contattano perché hanno piacere di ricevere una mia consulenza in merito proprio alla comunicazione e al marketing. Quindi volevo illustrarvi in maniera semplice come normalmente opero quando vengo contattata proprio per questa ragione. Il primo servizio che normalmente propongo a chi mi contatta per la prima volta è un servizio che si chiama TradeUp. Si tratta di un'analisi, un'analisi molto approfondita, che attraverso la valutazione di oltre 100 indicatori legati alla vita dell'attività mi consente di fare un ragionamento molto approfondito su quelle che sono le esigenze, i punti di miglioramento e le vie, le strade da seguire perché si possano raggiungere gli obiettivi dell'imprenditore. Il TradeUp è molto semplice. Si tratta di una prima giornata che viene svolta proprio all'interno della sede dell'attività di cui stiamo parlando, una giornata o più a seconda della dimensione dell'attività stessa, durante la quale dialogando con l'imprenditore, raccogliendo tutte le informazioni che riguardano la comunicazione, la gestione del personale, la gestione informatica e gli altri aspetti nel mondo di questa attività, vengono raccolti i dati e messi tutti in un archivio. Quando rientro nella mia sede, nei giorni successivi, raccolgo le idee, raccolgo questi dati e preparo una relazione d'analisi. Questa relazione d'analisi va a valutare punto per punto, in particolar modo in relazione ai vari aspetti del retail marketing puzzle, qual è lo stato dell'arte dell'azienda e quali sono le possibilità di miglioramento e le attività consigliate. Al fondo di questa relazione c'è una proposta di attività, che normalmente è un piano annuale, ma non è necessariamente sempre così, un piano annuale che comprende delle attività di marketing, delle attività di comunicazione online e offline, eventualmente delle attività di ottimizzazione della gestione organizzativa e amministrativa dell'azienda, ad esempio un ridimensionamento del magazzino, oppure un calcolo della redditività, l'impostazione di un sistema di KPI validi per il monitoraggio dell'azienda e se serve un piano di formazione per il titolare e per il personale. Questo progetto viene quotato e il cliente ha la possibilità o di sottoscrivere il contratto proposto in parte o totalmente, oppure semplicemente di valutare e realizzare in maniera autonoma i consigli che ne sono stati dati. Nel caso in cui il cliente decida di proseguire la collaborazione e di mettere in atto il piano, il costo del trade-up viene decurtato dal valore del piano stesso. Quindi se vi interessa iniziare una collaborazione con me come consulente di marketing, oppure semplicemente volete una valutazione della vostra azienda e capire che possibilità ci sono per svilupparla in modo coerente con le possibilità della comunicazione e del marketing di oggi, potete chiamarmi, sarò lieta di fare anche a voi questa analisi e di valutare insieme e quali sono le possibili prospettive di sviluppo.